Un evento organizzato per festeggiare le nostre campionesse del mondo. La squadra nazionale di ginnastica ritmica nel settembre del 2009 è diventata campione del mondo e noi in onore di questo prestigioso risultato vogliamo questa sera regalare al numeroso pubblico che sicuramente sarà presente qui al Paladesio, quello che queste ragazze sanno trasmettere anche sui campi di gara di tutto il mondo e cioè delle bellissime emozioni. Grazie a tutti. 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 Aqui me pongo a cantar. al compasso del recruitamentoeka che al hombre che lo desvela una pena extraordinaria come il ave solitaria con il cantante consuela il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.